18 ottobre 1909, nasce a Torino Norberto Bobbio, uno dei maggiori intellettuali del Novecento. Sente il diritto dovere per l'intellettuale militante di scendere in campo. Dal 1945 è un testimone attento e una delle più ascoltate coscienze critiche delle vicende politiche e sociali del paese. Antifascista, esponente e teorico del socialismo liberale, dedica gran parte della sua vita all'insegnamento accademico a Torino. Nominato nel 1984 senatore a vita da Pertini, è un fermo sostenitore della ricerca della via della pace che non riguarda solo i vertici, i governi e le classi politiche, ma deve coinvolgere tutti. Muore il 9 gennaio 2004.